salve a tutti benvenuti al canale confessioni interessanti prima di cominciare sarebbe davvero gentile da parte vostra iscrivervi al mio canale mettere mi piace al video e lasciare un commento qui sotto questi semplici gesti significherebbero molto per il futuro di questo canale e sarebbe una gratificazione per l'impegno che ci metto ogni giorno ora senza perdere altro tempo iniziamo sono un uomo di 38 anni e mi sono sposato con la mia moglie una donna di 33 anni due anni fa eravamo fidanzati da tre anni e sebbene fossi meno interessato al matrimonio di lei ho accettato per renderla felice circa un anno fa abbiamo deciso di provare ad avere un bambino su insistenza di mia moglie durante questo periodo abbiamo incontrato molte difficoltà nel concepire tanto che la mia salute mentale ne ha risentito pochi giorni dopo il test i medici mi hanno comunicato che ero sterile una notizia che mi ha spezzato il cuore sebbene diventare padre non fosse la mia priorità avevo iniziato a immaginare la gioia di essere un genitore e desideravo davvero diventarlo scoprire che non avrei mai potuto realizzare questo sogno è stata la notizia più devastante per me in quel momento ma la situazione stava per peggiorare ulteriormente stavo cercando di trovare il coraggio di confessare a mia moglie che ero io il motivo per cui non riuscivamo ad avere figli ma temevo la sua reazione lei era stata così ostile nei confronti miei che non potevo immaginare come avrebbe reagito quando avesse scoperto che probabilmente non sarebbe mai successo con me quindi dopo aver ricevuto i risultati dei miei esami ho aspettato diversi giorni prima di dirle la verità ma ma è stata lei a sorprendermi qualche giorno dopo aver scoperto la sua gravidanza mi ha fatto sedere e mi ha annunciato che aveva delle notizie molto importanti da condividere con me ero estremamente spaventato pensavo che avesse scoperto la mia sterilità ma no voleva solo dirmi che finalmente era incinta ero sconvolto dentro di me sentivo un mix di emozioni ma per fortuna lei non sapeva cosa provavo davvero e ha iniziato a festeggiare immediatamente il giorno successivo ho ripetuto gli esami per confermare la mia sterilità e ancora una volta ho ottenuto gli stessi risultati ero confuso se io non ero il padre allora mia moglie mi stava tradendo poiché i trattamenti medici necessari per concepire in modo artificiale erano costosi e dato che ero l'unico a portare a casa lo stipendio mia moglie non avrebbe potuto permetterseli senza chiedermi i soldi in anticipo quindi era evidente che stava tradendo l'intera idea era così strana e spaventosa che non ho fatto nulla san riguardo per alcuni giorni mentre mia moglie organizzava una grande festa per annunciare la sua gravidanza lei appariva genuinamente felice mentre io ero totalmente devastato ma non potevo mostrarlo perché dovevo affrontare tutta questa situazione da solo non ho nemmeno confidato alla mia famiglia cosa stava succedendo e ho tenuto tutto sotto controllo perché era troppo scomodo e personale per essere condiviso con qualcuno non potevo neanche condividere i miei pensieri con mia moglie perché per un verso era passato troppo tempo e per un altro desideravo scoprire chi fosse effettivamente il padre del suo bambino poiché se l'avessi affrontata avrebbe potuto semplicemente andarsene e io non avrei mai saputo la verità per fortuna ho scoperto tutto il giorno della festa stessa numerose persone hanno partecipato all'evento tra cui le nostre famiglie i nostri amici e alcuni dei miei colleghi di lavoro abbiamo anche invitato un vicino che risiede proprio di fronte a noi questo vicino un uomo di 27 anni è sicuramente più affascinante di me senza dubbio e probabilmente più bello della maggior parte delle persone considerando che è un modello che sta ancora cercando di farsi un nome nel mondo della moda più vicino alla città perché la sua famiglia abita molto lontano mia moglie ha sempre provato simpatia per questo ragazzo e preparava i pasti per lui e sua zia quando si era trasferito all'inizio veniva anche a cena da noi di tanto in tanto e parlavamo del suo lavoro è una persona colta e ben educata nonché un laureato in letteratura come mia moglie hanno molti interessi in comune e hanno subito stretto un legame la prima volta che si sono incontrati non avevo nulla in contrario a questo ragazzo perché sembrava abbastanza gentile e avevo fiducia nella mia moglie tuttavia quando è entrato in casa il giorno della nostra festa e ho visto gli occhi di mia moglie illuminarsi ho capito che qualcosa era cambiato lei ha fatto di tutto per raggiungerlo appena è entrato e lo ha abbracciato più a lungo degli altri ospiti nessuno sembrava accorgersene ma io sì e ho potuto percepire che tra loro stava succedendo qualcosa quindi ho deciso di scusarmi per andare in bagno ma invece sono andato in camera da letto e ho aperto il laptop di mia moglie sono riuscito a verificare il suo cellulare mentre dormiva qualche giorno dopo avermi detto di aspettare un bambino ma non ho trovato nulla di strano accedere al suo computer portatile si è rivelato più complicato perché ogni volta che ero a casa lei era costantemente impegnata a guardare o scrivere qualcosa su di esso ogni volta che chiedevo cosa stesse facendo lei girava lo schermo lontano da me e mi diceva che stava lavorando al suo libro una cosa che faceva da mesi io rispettavo la sua privacy e credevo davvero che stesse scrivendo un libro ora però le cose erano cambiate e ero abbastanza sicuro che non ci fosse alcun libro ma solo una scusa per nascondere quello che c'era nel suo laptop per fortuna non c'era nessuna password o qualcosa del genere quindi potevo accedere facilmente dopo un po di ricerca ho trovato un altro account email oltre a quello vero sono passato a quello e ho controllato le email inviate e ricevute le ho lette e contenevano dichiarazioni d'amore da parte di mia moglie e anche dell'altro ragazzo il nostro vicino riconoscevo l'indirizzo email perché usava il suo vero nome e nelle email più recenti lei gli diceva di essere incinta lui non era contento e sembrava arrabbiato quindi la corrispondenza si era interrotta per un po probabilmente perché voleva chiudere la relazione ma mia moglie non voleva lasciarlo andare tra tutte le email che ho ricevuto ce n'era una in particolare in quella email mia moglie mi diceva di aver parlato con un'amica avvocato e che avrebbe chiesto il divorzio subito dopo la nascita del bambino il suo piano era quello di ottenere sia gli alimenti che il sostegno per il bambino in modo da poter partire con il nostro vicino dopo qualche mese e vivere felici e contenti mi sono sentito disgustato quando ho letto quella email e ancora adesso provo una sensazione di nausea ogni volta che ci penso ho cercato di scuotermi di dosso quell'emozione e sono tornato al lavoro ho scattato diverse foto dell'email sul mio telefono prima di spegnere il computer e rimetterlo al suo posto non ero tanto preoccupato per il tradimento quanto disgustato dal fatto che mia moglie stesse cercando di ingannarmi per ottenere un figlio e poi farmi pagare tutti quei soldi solo per finanziare il suo stile di vita da sogno con il suo ragazzo in difficoltà economica era davvero un comportamento psicotico era così abilmente ingannevole che non avevo sospettato nulla fino a quel momento la sua felicità era quasi inquietante ma ero così infuriato per tutta quella situazione che avevo deciso di vendicarmi avevo scelto di andare avanti e poi colpirla con un colpo a sorpresa quando meno se lo sarebbe aspettata non avrei mai lasciato che se ne andasse senza provare il dolore il tradimento e la frustrazione che avevo provato quando avevo scoperto la sua disonestà chiamatemi folle ma ho fatto ciò che era necessario quindi per i successivi nove mesi ho interpretato il marito e padre perfetto in attesa è stato difficile sapere che mi stava mentendo costantemente ma più mentiva e fingeva di essere felice con me più rafforzava la mia determinazione a portare a termine il tutto ho partecipato a ogni visita dal dottore e mi sono assicurato che prendesse tutte le sue vitamine in tempo e sono stato il miglior marito che uno potrebbe desiderare poi finalmente qualche giorno fa mia moglie è entrata in travaglio ero estremamente nervoso come chiunque sarebbe nella mia situazione ma ho messo da parte tutto e l'ho portata in ospedale da solo avevo già chiamato i suoi genitori ma non i miei poiché non volevo che fossero presenti nel caso le cose diventassero troppo drammatiche comunque i suoi genitori hanno dovuto guidare per un'ora per arrivare all'ospedale quindi abbiamo avuto un po di tempo da soli e è stato allora che ho scelto di farle cadere la bomba una volta che è stata sistemata nella stanza le ho detto che sarei riuscito a chiamare il nostro vicino perché potesse essere lì per lei lei sembrava presa alla sprovvista e balbettava un po mentre diceva che non c'era bisogno di quello e che non voleva uno sconosciuto nella stanza mentre partoriva allora le ho sorriso e le ho mostrato i risultati del mio test di fertilità insieme ai documenti per il divorzio che avevo fatto in modo di portare con me quel giorno lei ha esaminato tutto ancora confusa quindi le ho spiegato che non sarei stato in grado di metterla incinta anche se avessi voluto e che il bambino non era mio poi le ho parlato delle email che avevo trovato sul suo account super segreto e in quel momento ha finalmente capito cosa stava succedendo l'espressione sul suo viso era impagabile mentre uscivo e lei lottava per trovare anch'io perché è così che batteva forte il mio cuore quando finalmente sono uscito e ho chiamato il nostro vicino per informarlo che mia moglie era in travaglio non ho nemmeno aspettato la sua risposta e ho riattaccato il più velocemente possibile poi sono salito in macchina e ho aspettato che la famiglia di mia moglie arrivasse non appena ho visto la macchina di suo padre arrivare nel vialetto sono scappato il più velocemente possibile ho anche spento il telefono per sicurezza e ho guidato per un po finché non sono arrivato a questo motel fuori città avevo già fatto le valigie alcune settimane fa e le avevo nascoste nel bagagliaio della mia auto quindi avevo tutto ciò di cui avevo bisogno con me e non ero stato colto alla sprovvista ho passato il resto della giornata a guardare la televisione a bere birra e a fare tutto il possibile per non pensare a nulla quella notte ho dormito abbastanza pacificamente sapendo che finalmente ero fuori da quella situazione svegliato e finalmente ho riacceso il telefono naturalmente c'erano centinaia di messaggi da parte di mia moglie e del nostro vicino nessuno dei quali ho nemmeno aperto ma ho letto alcuni messaggi che i miei genitori e mio fratello mi avevano inviato immagino che mia moglie li avesse contattati quando non era riuscita a raggiungermi quindi ho deciso di richiamare i miei genitori e parlare con loro gli ho detto che sarei tornato a casa tra poco e ho anche chiesto loro di far venire mio fratello così avrei potuto spiegare l'intera situazione a loro perché si meritavano una spiegazione per quello che stava succedendo sono andato a casa dei miei genitori e mio fratello era già lì tutti sembravano confusi e un po irritati il che era naturale perché per loro avevo appena perso la nascita di mio figlio e li avevo fatti perdere anche la nascita del loro nipote ma li ho fatti sedere e ho spiegato tutta la storia a loro e ho spiegato loro le mie ragioni per quello che avevo fatto e quando ho finito di raccontarla erano senza parole ero pronto a essere bombardato di domande e accuse ma non è successo nulla del genere tutto quello che mio padre ha detto è stato che sperava che non succedesse niente di peggio e se gli altri avevano altri commenti non hanno detto nulla quindi era tutto tranquillo da quella parte è passata qualche giorno e mentre la mia famiglia non ha detto molto mia moglie ha fatto di tutto per accusarmi di averle rovinato l'esperienza di diventare madre per la prima volta ha cercato di chiamarmi e mandarmi messaggi da allora ma non ho risposto a nulla perfino il nostro vicino mi ha mandato un messaggio poche ore fa dicendo che mia moglie era davvero sconvolta e che avremmo dovuto mettere da parte le nostre differenze per amor suo e almeno cercare di sistemare le cose con lei non posso credere alla sfacciataggine di queste persone che ancora cercano di parlarmi e far sembrare che questo sia solo una piccola cosa su cui mi sto arrabbiando ha menzionato un paio di altre cose nel suo messaggio come il fatto che mia moglie aveva iniziato a innamorarsi di nuovo di me durante la gravidanza il che era stato uno shock anche per loro quindi avrei almeno dovuto provare a dare una seconda possibilità al nostro matrimonio io chiamo queste cazzate perché se si fosse innamorata di nuovo di me allora perché il nostro vicino era ancora in gioco non so perché pensano che io sia così stupido mia moglie è sconvolta ma non c'è niente che io possa fare al riguardo è soprattutto arrabbiata perché sapeva tutto fin dall'inizio ma avevo scelto di stare con lei e sopportare tutto questo teatrino e mi ha accusato di averle mentito aggiornamento 1 è passata quasi una settimana dalla nascita del bambino e sto ancora soggiornando in una stanza d'albergo non sono ancora stato a vedere mia moglie e non ho intenzione di andarci lei continua a mandarmi messaggi e chiamarmi ma non so perché dato che ho reso abbastanza chiaro che non sono interessato a parlarle o a sentire quello che ha da dire non l'ho ancora bloccata ma ho bloccato il nostro vicino dato che si era preso la briga di mandarmi un messaggio per ricordarmi che mia moglie aveva ancora speranze e voleva che tornassi da lei sono sicuro al 100% che l'unico motivo per cui è ancora con lei e cerca di farmi perdonare è in modo che lei possa ottenere qualcosa dal divorzio e dagli alimenti dato che entrambi sono praticamente disoccupati mia moglie era una casalinga cosa che ho apprezzato e rispettato ma non stava solo a casa a fare le faccende stava anche tradendo dietro le mie spalle il che non sono stato io a suggerire che lei lasciasse il lavoro dopo il matrimonio infatti ero piuttosto supportivo quando stavamo uscendo insieme e lei lavorava ma è stata lei a dire che voleva smettere e prendersi cura della nostra casa quindi non mi sono opposto perché guadagnavo abbastanza bene comunque sono abbastanza sicuro che il mio avvocato riuscirà a farmi evitare di pagare gli alimenti una volta che potremo dimostrare che mi stava tradendo cosa che spero sarà facile per quanto riguarda il nostro vicino lui continua a lottare per trovare ingaggi ben pagati come modello quindi gestire le sue spese quelle di mia moglie e un bambino in più sarà quasi impossibile per loro anche con tutti i loro soldi messi insieme quindi buona fortuna a loro sono solo grato di essere fuori da questo pasticcio e di non dovergli dare nulla nemmeno la mia attenzione spero solo che mia moglie si renda conto di ciò e non sprechi più il mio tempo contestando il divorzio spero che non lo faccia ma dato il completo mancanza di cervello potrebbe anche farlo quindi sono preparato anche a questo le foto delle email scambiate sul suo account email segreto sono ancora al sicuro sul mio telefono e salvate sul mio laptop quindi non sono troppo preoccupato anche se decidesse di cancellare il suo account non può cancellare quelle immagini che ho e so che sarò a posto nel peggiore dei casi le pagherò gli alimenti ma almeno non dovrò stare con lei dovrebbe considerarsi fortunata che le sto dando tempo per lasciare la nostra casa da sola e non l'ho fatta sfrattare con la forza dato che la casa è registrata a mio nome spero per il meglio ora e forse tutto questo si risolverà abbastanza presto aggiornamento 2 avevo ragione mia moglie è un idiota e ha deciso di negoziare dato che non era contenta dell'accordo che le avevo offerto che era fondamentalmente solo l'importo che aveva speso durante il corso del matrimonio e anche quello mi sembrava piuttosto generoso non capisco nemmeno quale miracolo pensi che accadrà ma va bene per lei mi ha mandato un messaggio ieri dicendo che aveva liberato la casa oggi e sono tornato felice pensando che probabilmente si fosse trasferita dai suoi genitori o qualcosa del genere ma sono rimasto molto deluso nell'apprendere che si era solo trasferita nella casa del nostro vicino di fronte e che avrei ancora dovuto vedere lei e la faccia del suo ragazzo ogni singolo giorno ho persino considerato di tornare a vivere in un albergo ma non l'ho fatto poiché questa era la mia casa e avevo ogni diritto di vivere dove volevo non avevo intenzione di fare le valigie e andarmene solo perché avrebbero cercato di farmi sentire a disagio mi chiedevo perché mia moglie non fosse andata a vivere con i suoi genitori invece dal momento che vivere con il nostro vicino avrebbe avuto un impatto negativo sul caso di divorzio e stava solo peggiorando la situazione per se stessa ma non ho dovuto pensarci troppo perché mentre scorrevo tutti i messaggi non letti che avevo ricevuto da molte persone fino ad ora ho notato anche uno da parte del padre di mia moglie non avevo risposto a diverse persone che mi avevano mandato messaggi negli ultimi giorni e il suo messaggio era anche andato perso tra questi era un lungo testo su quanto fosse dispiaciuto per quello che sua figlia aveva fatto e mi diceva che erano fortemente contrari alle sue azioni il padre di mia moglie diceva queste cose quindi significava molto per me e validava così tanto le mie emozioni che ho quasi pianto ma ho trattenuto le lacrime comunque si scusava per il comportamento di mia moglie e mi diceva che l'avevano tagliata fuori dal momento in cui mi aveva detto che voleva contestare il divorzio finora nulla di quello che mia moglie aveva fatto aveva avuto senso per me dal momento che tutto quello che aveva fatto alla fine si sarebbe ritorto contro di lei e sicuramente anche qualcuno avrebbe dovuto rendersi conto che era così o era davvero stupida o aveva ancora qualche trucco malato e contorto nella manica spero che non sia il secondo ma non lo metterei oltre a lei è davvero la peggiore questa situazione di convivenza sicuramente porterà a complicazioni e sono sicuro che cercheranno di farmi sentire a disagio o geloso ma sono determinato a non lasciarli entrare sotto la pelle e provocarmi perché sicuramente useranno tutto ciò contro di me considerando tutto sto ancora risparmiando una fortuna dato che non devo vivere in un albergo è passato un mese da quando sono iniziate le trattative per il mio accordo di divorzio e finora stanno andando male per mia moglie sono riuscito a dimostrare che mi stava tradendo e lei ha persino reso il mio lavoro più facile trasferendosi con l'uomo che avevo accusato di avermi tradito quindi non c'erano dubbi sulla validità delle mie false accuse su come fossi un alcolizzato il che è anche il motivo per cui ero sterile e quindi aveva avuto una relazione perché quando stavamo cercando di concepire ero diventato molto crudele e amaro nei suoi confronti ma tutto questo è stato smentito abbastanza facilmente poiché tutti sapevano che avevo smesso di bere l'anno scorso quando avevamo deciso di iniziare a provare ad avere un bambino e non avevo più toccato alcol da allora ancora una volta non so perché pensasse che avrebbe funzionato ed è stato piuttosto stupido da parte sua immagino stesse solo aggrappandosi a un filo poiché il suo piano iniziale era fallito miseramente e ora era troppo impegnata a essere madre per essere una mente criminale era troppo impegnata e il padre di suo figlio era troppo stupido quindi eccoli là ormai entrambi sappiamo che le probabilità che lei se ne vada con qualsiasi tipo di alimenti sono molto scarse immagino che debba aver detto al suo ragazzo dato che qualche giorno fa è stata cacciata senza cerimonia dalla sua casa con suo figlio sì è vero ho sentito un sacco di urla e grida provenire dalla loro casa e poi in pochi minuti ho visto mia moglie e suo figlio essere spinti fuori di casa mentre il padre urlava cose assolutamente disgustose su di lei e la insultava con ogni nome nel libro osservavo tutto questo mentre ero nel mio soggiorno e nel momento in cui l'ho visto spingere mia moglie fuori mentre portava il bambino sono corso fuori per aiutare inimicizia a parte non potevo lasciare che un povero bambino innocente soffrisse per qualcosa che non era nemmeno colpa sua entro il tempo che sono arrivato al suo portone lui aveva già sbattuto la porta mentre mia moglie e suo figlio piangevano entrambi ho preso il bambino in braccio e ho afferrato la mano di mia moglie per poterli portare nella mia casa dall'altra parte della strada e poi ho chiamato mio suocero affinché venisse a prenderla entro un'ora si è presentato e l'ha portata via ringraziandomi ancora per tutto quello che avevo fatto durante quell'ora mia moglie piangeva come una bambina quindi di fatto stavo calmando sia la madre che il bambino da solo volevo chiamare anche la polizia ma lei è riuscita a persuadermi a lasciar perdere dato che non voleva più problemi si scusava ancora e ancora per tutto ciò che era successo e mi diceva che era stata così disperata di stare con la persona che amava che aveva perso tutto il suo rispetto per se stessa e la sua moralità e ne era davvero dispiaciuta mi ha detto che avrebbe accettato qualsiasi cosa accadesse e che non avrebbe negoziato più così il divorzio potrebbe essere finalizzato più velocemente suppongo che sia una cosa buona spero che decida di sporgere denuncia alla fine contro questo uomo e che sicuri ma almeno io ho fatto tutto il possibile e sono stata una persona per bene e non rimpiango nulla nonostante le circostanze difficili mi sento sollevato di aver agito con integrità e di aver fatto tutto il possibile per proteggere un innocente in un momento di bisogno ora con la situazione leggermente più tranquilla e il divorzio in via di finalizzazione spero solo che mia moglie possa riflettere sulle sue azioni e trovare la forza di ricostruire la sua vita in un modo più onesto e rispettoso non solo verso gli altri ma anche verso se stessa nel frattempo io continuerò a concentrarmi sulla mia guarigione e sul mio futuro sperando che con il tempo possiamo entrambi trovare pace e felicità seppur separatamente grazie per aver ascoltato la mia storia alla prossima